Nei due anni di pandemia di Covid-19 i dieci uomini più ricchi del mondo hanno più che raddoppiato i loro patrimoni passati da 700 a 1.500 miliardi di dollari a ritmo di 15.000 dollari al secondo lo riferisce l'ONG Oxfam International in un rapporto pubblicato oggi. In un mondo così diseguale, gli 81 miliardi di dollari guadagnati da Jeff Bezos, il proprietario di Amazon, dal marzo 2020 basterebbero a vaccinare l'intera popolazione mondiale con tre dosi. Pochi superricchi non possono avere in mano i destini del resto del mondo. I monopoli detenuti da Pfizer, BioNTech e Moderna hanno permesso di realizzare utili per 1.000 dollari al secondo e creato 5 nuovi miliardari. Nei mesi della pandemia il numero di miliardari italiani nella lista Forbes è passato da 36 a 49. questi posseggono l'equivalente della ricchezza netta del 30% degli italiani più poveri, ovvero 18 milioni di persone. Nel nostro paese, quindi in Italia, a fine 2020 il 5% più ricco degli italiani deteneva una ricchezza maggiore dell'80% più povero. L'Oxfam ha quindi chiesto ai vari governi di imporre una tassa una tantum sul patrimonio del 99% sui guadagni inaspettati durante il Covid-19. L'ente ha affermato che i dati della Banca Mondiale hanno mostrato che oltre 163 milioni di persone sono state spinte al di sotto della soglia di povertà mentre i superricchi stavano beneficiando dello stimolo fornito dai governi in tutto il mondo per mitigare l'impatto del coronavirus.